Il Paradiso 8, spoiler sul cast, Puglisi, in dubbio Ezio e Gloria. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Gli spoiler sul cast della prossima stagione dello sceneggiato nostrano ideato da Gianna Andrea Pecorelli evidenziano che Maria Puglisi, Chiara Russo, farà ancora parte dei personaggi. Così come i telespettatori potranno trovare anche Marcello Barbieri, Pietro Mosotti, la Contessa dell'Aidea di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina, e il commendatore Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi. Ad essere presenti tra il parterre dei personaggi del Paradiso delle Signore 8 troveremo pure Alfredo Perico e Irene Cipriani, Francesca del Fa. Ma anche Agnese Amato, Antonella Attili, e il volto storico Vittorio Conti, Alessandro Tersigni. Rimangono ancora in dubbio, infine, le conferme di Gloria Muro, Lara Comar. Ezio Colombo, Massimo Poggio, così come di loro figlia Stefania, Gras Ambrose. I numerosi fan del Paradiso delle Signore potranno godersi le evoluzioni del personaggio di Maria Puglisi anche nel prossimo capitolo della Fiction Daily Targata Rai. La conferma di Chiara Russo nel cast, la quale veste i panni della giovane Sarta in procinto di diventare stilista dell'Atelier Meneghino. Lascerebbe presumere che anche Vito Lamantia, Elia tedesco, possa essere riconfermato. Ipotesi che parrebbe legata a stretto giro all'evoluzione della storiline amorosa tra i due. Col contabile che sembra intenzionato a proporre a Maria di trasferirsi assieme in Australia. Mentre la sarta siciliana lo incalza dicendogli di voler accettare l'incarico da stilista del Paradiso. Gli autori della Sopra i hanno già da qualche mese confermato la presenza nell'ottava stagione di alcuni volti illustri nonché storici come Vittorio. Il banchiere Umberto, la sarta Agnese e la nobile Adelaide, lasciando alla spicciolata la conferma di alcuni personaggi meno longevi. Ad esempio Marcello, Alfredo, Irene, come anticipato, la stessa Maria. Forse per lasciare col fiato sospeso alcuni appassionanti del Paradiso, rimangono sinora in dubbio le presenze nel prossimo capitolo della fiction di Ezio, Gloria e di loro figlia Stefania. Teresio e Moro si trovano al momento impossibilitati a vivere il loro sogno d'amore. Di fatti l'ex capo commessa è partita alla volta degli Stati Uniti mentre il marito è rimasto in città a occuparsi dell'azienda di denim. Per quanto riguarda la giovane scrittrice, infine, si trova anch'essa oltreoceano ed è raduce dalla fine della storia con Marco, Moise Curia. Per quanto riguarda la giovane scritte l'azia della crisi, Carac sutra,단 si fuori si trova anch'essa oltreoceano storia. Per quanto riguarda la giovane scrittrice, Areola della Falta, San травa,ratorsKA, Questar corsi sunt responsabile in dubbio d'amore nel mare. Per quanto riguarda la giovane siamo aPPoncioli, blinzare l'inacticamentali. Grazie a tutti.